Margaret Kennedy è nota in tutti per i suoi studi sulle monete complementari e per il fatto di averle poi messe in pratica. In Germania è un gruppo, una rete regionale delle monete complementari che è partita con una moneta nel 2003 dopo aver studiato, ripreso, sperimentato e adesso conta 63 esperienze tra quelle iniziate e quelle in corso. Vi ringrazio molto per avermi invitato a questo evento così emozionante. Quello che cercherò di spiegare è perché abbiamo bisogno di cambiare il sistema monetario. Se volete cambiare qualcosa di così importante per la gente, per la sua vita, come il sistema monetario, dovete avere veramente delle ottime ragioni per farlo. Ho lavorato negli ultimi 24 anni come architetto. Sono architetto e ho cominciato ad osservare meglio il sistema monetario quando ho scoperto che l'architettura ecologica, che è ciò che voglio fare, risulta irrealizzabile con l'attuale sistema monetario. Il mio scopo è sensibilizzare le persone, la gente normale che svolge la vita di tutti i giorni, sull'impossibilità che ha l'attuale sistema monetario mondiale di andare avanti in questo modo ancora per molto e su come creare qualcosa di diverso. Penso sia utile per voi guardare un breve filmato di cinque minuti sulle origini delle monete locali in Germania. Ciò che vedrete è stato presentato da una televisione tedesca. La prima parte spiega come nasce l'idea delle monete locali attraverso un progetto scolastico. Nella seconda parte c'è l'intervento di un professore di economia che sostiene la nascita delle monete locali. L'argomento fondamentale è che ormai non abbiamo quasi più nessun'altra possibilità se non quella di sostenere la loro diffusione. Ci sono circa 400 negozi che aderiscono alla rete delle monete locali e la signora sta dicendo che nel suo non ha mai avuto finora un'esperienza negativa con questo genere di monete. La signora sta pagando con questa moneta, il Chimgawe. In Heimarbeit wird hier seit 2003 der sogenannte Chimgauer gedruckt, geboren aus einem Oberstufenklassenschulprojekt, zum besseren Verständnis von Wirtschaftskreisläufen. Der Chimgauer, der ist erstmal eine regionale Währung und versucht, für alle Beteiligten in der Region einen Vorteil zu schaffen. Inzwischen haben sich dem Projekt schon 180 Geschäfte im gesamten Chimgau angeschlossen. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, weil ich habe dadurch etliche mehr Kunden gewonnen. Und das Experiment der Regionalwährung funktioniert. Vom Schulgeschäft über Hotels bis zum Lebensmittelladen sind die Kaufleute dabei, einen regionalen Waren- und Geldkreislauf aufzubauen. Verbucht werden die Chimgauer Umsätze grundsätzlich in Euro, schon wegen des Finanzamts. Ich habe einige Zulieferer, die ich mit dem Chimgauer auch bezahlen kann, oder zumindest einen Teil der Rechnung kann ich mit Chimgauer bezahlen. Und ich nehme den auch mal privat, mache eine private Inname aus meinem Geschäft und gehe damit dann wieder in andere Geschäfte zum Einkaufen. Attualmente, il valore totale in circolazione del Chimgauer ist bei 200.000 Euro. Das Prinzip ist ein Kreislauf. Das Artikel ist ein Kreislauf. Das zeigt die Struktur der Struktur der Chimgauer auf dem Territorium. Die Kunden tauschen als Mitglieder im Bankverein in beliebiger Menge eins zu eins gegen Euro. Ein gekauft wird bei teilnehmenden Geschäften, deren Inhaber wiederum selbst mit Chimgauern einkaufen. Wichtig ist, dass das Geld in Umlauf bleibt. Wer es in Euro zurücktauscht, ist, dass das Geld in Umlauf gibt, oder auch ein Kiefer, oder andere Produkte typische, haben die Möglichkeit, in den Kiefer, in der Kiefer, in der Kiefer, die Kiefer, durch die Kiefer, die Kiefer, die Kiefer, die Kiefer, die neue Arbeitsplätze werden, also regional Geld statt des Euro? Die Verfechter dieses System wollen nicht den Euro abschaffen. Das Herr, in der Kiefer, die Möglichkeit, die Kiefer, 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 Attualmente l'uso del Chimgauer sta crescendo molto bene, sempre più persone fanno uso di questa moneta locale. Possiamo senz'altro dire che l'esperimento funziona. All'inizio può sembrare strano, ma è una questione di abitudine. In fondo il Chimgauer, la moneta locale, è solo uno strumento in più per aiutarci a scambiare beni a livello di piccoli distributori. Il vero problema sono le grandi catene, che non sono affatto interessate allo sviluppo delle realtà regionali. Oggi le regioni sono completamente subordinate al mercato globale, quindi per aiutare la realtà regionale bisogna regionalizzare le filiere produttive. Diccounter e filialbetriebe fühlen sich nicht regional verbunden. Sì vogliono gewinne maximieren, möglichst ohne Konkurrenz e ohne Chimgauer. Ciao, ciao. Ehm, grazie. Kann ich bei Ihnen mit Chimgauer bezahlen? Nein, ich habe leider keine Geld zum Abrechnen, weil das Filialbetriebe sind. Ah, das sind Filialbetriebe? Ja, das gibt und da un minimiere das leider nicht. Tut mir leid. Danke. Ciao. Ciao. Es ist fast kein Platz mehr für lokale Wirtschaftskreisläufe und damit machen sich Volkswirtschaften und auch Regionalwirtschaften immer mehr abhängig vom Weltmarkt geschehen und das ist sozusagen die Gegenbewegung. Wir wollen einen geschlossenen Wirtschaftskreislauf in einer Region realisieren, der uns mit den sogenannten primären Gütern versorgt. Das sind also Nahrungsmittel, das ist das Handwerk, das sind Dienstleistungen und das kann auch die Energie sein. Regionale Energieversorgung ist ein großes Zukunftsthema. Die Schüler aus Prien machen derweil unverdrossen. Le ultime Immagini mostrano come sempre più negozi stanno entrando nella rete della Circulazione delle Monete locali. Die Frau Steilmüller wird Ihnen hier ausfüllen. Zurzeit kommt fast jeden Tag ein neuer Laden hinzu und in rund 50 Kommunen in ganz Deutschland sind ähnliche Projekte im Aufbau. Rücktausch 1 zu 1. Am nächsten Dienstag kommt die Prost. Frau Steilmüller wird Ihnen hier ausfüllen. So now I have a couple of slides on the CD, need more technology. Ora ho alcune diapositive da mostrarvi. Mentre aspettiamo che i tecnici preparino un CD, lasciatemi dire perché abbiamo bisogno di cambiare il sistema monetario. Ci sono almeno tre ragioni per le quali l'attuale sistema monetario che abbiamo non è più adatto alle nostre esigenze ed è difficile poterlo mantenere. La prima ragione è da ricercarsi nel fatto che cercando solo l'investimento più produttivo in qualsiasi parte del mondo, il denaro è come un aspirapolvere che porta soldi laddove e già ce ne sono tanti. Le realtà regionali possono ottenere dei prestiti solo a condizioni che comunque sono stabiliti dal mercato globale. Negli ultimi 4 anni il 40% di tutti i fondi coinvolti negli investimenti mondiali sono stati assorbiti dalla Cina. Cioè fondamentalmente i nostri risparmi, i fondi delle nostre assicurazioni per la vita stanno finanziando lo sviluppo in Cina, piuttosto che garantire posti di lavoro e industrie che perdiamo qui nei nostri paesi. E arriva un punto in cui tutto questo può diventare molto pericoloso. Il sistema monetario è quasi come una droga, come il caffè o l'alcol. Fino ad un certo punto è ok e può funzionare, ma arriva a un punto in cui diventa dannoso. La seconda ragione è rappresentata dagli effetti della ridistribuzione del denaro, per cui l'80% della popolazione contribuisce alla ricchezza di un solo 10%. Vi mostrerò poi come questo accade. La terza ed ultima ragione è il cosiddetto effetto cancro, che ha un andamento esponenziale di crescita, che ha nella teoria matematica la sua possibilità di esistere, ma in pratica è impossibile. Abbiamo quindi un bisogno urgente di analizzare tutto questo. Qui non stiamo parlando di qualcosa di esoterico o di morale, in larga parte stiamo parlando di semplice matematica. In questo modo ho tentato di essere il più semplice possibile, racchiudendo in queste tre ragioni una infinità di aspetti diversi, per spiegare come dovrà avvenire il cambiamento del sistema. A questi problemi sono legati tre risultati e tre soluzioni, e ci sono molte altre soluzioni, molti altri risultati e molti altri problemi affrontandoli, ma questi sono i primi tra i più importanti. Al momento ci sono dalle 40 alle 50 realtà regionali in Germania, che stanno per implementare monete complementari locali, e 14 hanno già implementato la propria moneta locale. Ciò che avete visto dal filmato riguardava il primo esperimento realizzato. Voglio iniziare con tre tipi di concezioni errate che quasi tutti nel mondo hanno riguardo il denaro. La prima cosa che nessuno capisce è che ci sono differenti tipi di crescita. un tipo di crescita, adesso è difficile spiegare senza l'ausilio dell'immagine, diciamo che è la crescita naturale. Per esempio, la crescita del nostro corpo o la crescita di qualsiasi organismo che esiste in natura. Esso ha una curva di crescita con un'apice, dopodiché arresta le sue dimensioni. Il secondo tipo di crescita è di tipo lineare, ma questo non è così importante. Più macchine hai, più prodotti riesci a fabbricare. Ma la più importante è il terzo tipo di crescita, ed è la crescita esponenziale, quella del cancro, che inizia con una cellula, poi con due, poi con quattro, otto, sedici, trentadue. Va molto veloce. Questo è il tipo di crescita del nostro sistema monetario, che ha gli interessi e gli interessi composti che crescono in maniera esponenziale. Se Gesù o il padre di Gesù avesse investito un centesimo al tempo della nascita di Gesù Cristo, al giorno d'oggi, se Gesù fosse tornato nel 2000, con il 5% di quell'interesse medio che è stato pagato durante la storia, e se quella banca ancora esistesse, Gesù oggi avrebbe 500 miliardi di palle d'oro, ognuna del peso della terra, al prezzo dell'oro dell'anno 2000. In altre parole, è una cosa impossibile. Gli interessi e gli interessi composti, con la loro crescita esponenziale, possono solo funzionare in immediato o nel breve termine, non nel lungo termine. Il punto è che se voi investite come uomini d'affari in qualche cosa, voi dovete avere indietro come effetto del vostro investimento più di quello che la banca garantirebbe come interesse se voi aveste lasciato quel denaro nella banca. Cioè, se avete dei soldi, voi confrontate ciò che ottenete dalla banca come interesse con ciò che otterreste dall'investimento produttivo. Allora, il punto è che il tasso di interesse sul denaro stabilisce il livello minimo di produttività economica di qualsiasi investimento su prodotti voi facciate. Perciò, la crescita esponenziale del sistema degli interessi stabilisce lo stadio della nostra crescita economica. Cioè, è il tasso di interesse che decide se produrre qualcosa è economico o no. E questo è patologico, ed è esattamente la ragione per cui tutti i politici parlano continuamente di crescita economica. Quindi, è veramente molto importante che noi capiamo bene che questo è impossibile. Un'altra errata concezione, ed è anche la più importante, perché voi potete dire ok, paghiamo gli interessi nei prezzi dei prodotti, ma noi riceviamo anche gli interessi quando risparmiamo del denaro. Se guardate la popolazione tedesca, suddividendola in 10 parti uguali, e cercate quanto e chi guadagna gli interessi e quanto e chi paga gli interessi, noterete che l'80% della popolazione paga il doppio di interesse rispetto a quello che guadagna. Il 10% paga e riceve più o meno lo stesso. Il restante 10% gli entrano tutti gli interessi che la maggioranza dell'80% perde. Perciò, in Germania, ogni giorno un miliardo di euro è ridistribuito dall'80% della popolazione che paga per avere il suo denaro, a quel 10% che prende tutto. E nessuno parla di questo, è un tabù totale. Nessuno parla della ridistribuzione del denaro all'interno del sistema stesso. Allora, perché è così? Ci sono molte spiegazioni diverse. Ci sono molte persone che dicono, quel 10% che profitta del sistema monetario impedisce che la gente sappia apertamente come funziona veramente il sistema. Ho parlato con molte persone di quella piccola parte del 10% e se loro avessero la scelta tra continuare con questo sistema o cambiarlo, tutti hanno sempre risposto di preferire l'attuale sistema. Ma in realtà il fatto è che sono loro stessi a non capire come funziona il sistema. Ora, lasciatemi dire dei tre risultati. Il primo è che noi abbiamo una continua inflazione, perché se abbiamo gli interessi abbiamo anche l'inflazione. E quel che valeva nel 1950 il marco, nel 2000 vale 20 fennigs. Perciò il marco tedesco ha perso in 50 anni oltre l'80% del suo valore. E pensiamo che questo è accaduto a una delle monete più stabili del mondo. Il secondo risultato, sempre in questi 50 anni, è che l'incremento della ricchezza globale del sistema è aumentato incredibilmente di 400 volte, mentre la ricchezza effettiva che entra nelle nostre tasche è aumentata solo di 18 volte. Per cui c'è questo enorme gap tra la montare del denaro che circola e quello che effettivamente noi abbiamo. L'ultimo dei risultati di cui voglio parlarvi è, probabilmente ne avete già parlato stamattina, se osservate il totale delle transazioni monetarie che avvengono in tutto il mondo, soltanto il 3% è la parte che è destinata veramente in beni o servizi, mentre per il 97% si tratta solo di speculazione monetaria. Qui avete la curva A della crescita naturale. La curva C è la crescita esponenziale. Questo è molto importante perché si mostra come l'80% della popolazione, attraverso i prezzi dei prodotti, paga più interessi di quanto riceva poi indietro. La colonna a destra esprime la realtà di un mondo in cui praticamente 350 persone detengono più della metà della ricchezza totale del pianeta. Vorrei puntualizzare che in questo modo non sto cercando di diffondere invidia sociale. Ciò che voglio mostrare è che né quell'80% che paga più gli interessi capisce come accade che paghi di più, né d'altra parte l'ultimo 10% capisce come fa a ottenere il suo profitto. Allora come possiamo pretendere di cambiare qualcosa che nemmeno noi capiamo? Quindi il mio impegno non è quello di dire questi sono quelli buoni che pagano e gli altri sono cattivi perché lucrano. Il mio impegno è quello di far comprendere il sistema e ciò che va compreso è che tutto questo non è sostenibile. Voi non potete avere un sistema monetario come questo in una democrazia. E' impossibile perché o hai questo tipo di sistema ma allora non hai democrazia o hai democrazia e allora cambia questo tipo di sistema. Quando ero in Argentina diedi una lezione a Buenos Aires e dopo un uomo si avvicinò a me. Quest'uomo aveva lavorato per 36 anni alla banca centrale dell'Argentina. Egli mi disse, durante queste lezioni, per piacere, quando mostri questi grafici parla di come sia impossibile avere una situazione democratica di diritto quando non si ha prima una situazione democratica sul denaro. Per me questa è la cosa più importante da capire. Ma adesso chiediamoci, come possiamo cambiare questa situazione? Ma andiamo avanti. Passiamo ora ai risultati di una tale situazione. Qui abbiamo un marco tedesco, la moneta più forte al mondo, che in 50 anni, a causa dell'inflazione, era ridotto solo 20 fennigs. Questo è l'incremento nell'assetto monetario, durante lo stesso periodo, sempre in Germania. Le colonne verdi rappresentano la crescita esponenziale della ricchezza totale del sistema. Quelle viola rappresentano le entrate nette degli stipendi. Anche questo è molto importante, perché qui la piccola parte verde rappresenta l'incremento delle transazioni economiche per i soli beni e servizi nel mondo. La parte rossa, invece, è l'incremento della sola speculazione finanziaria. In otto ore nel mercato mondiale è scambiato molto più denaro di quanto tutte le banche centrali del mondo messe assieme possiedono come riserva. Se ci fosse qualcosa che non funzionasse in una simile situazione, non esiste nessuna istituzione al mondo che possa controllare o bloccare il danno. L'arresto della crescita, qui in questo angolo, è dovuto alla nascita dell'euro, i cui effetti nell'immediato bloccarono per un po' la speculazione finanziaria. Poi anche l'euro prese parte al gioco. Questo grafico è stato pubblicato dalla Banca Centrale d'Indonesia. Quando ho scritto il mio primo libro dedicato agli interessi e in inflazione del denaro, ero ancora convinta che parlando alle istituzioni politiche e bancarie si potesse muovere qualcosa dall'alto per riformare il sistema monetario. Nel libro, invece, che ho pubblicato l'anno scorso, sostengo che l'unico modo per riformare il sistema deve partire dal basso. Ma perché non accade? Perché i politici fanno soltanto quello che la gente capisce. Qui si vede come abbia funzionato la soluzione della moneta locale che è esistita in Austria tra il 1932 e il 1933. Potete vedere che la città di Vorgl chiamò questa moneta certificati di lavoro. Invece degli interessi, per garantirne la circolazione, applicò una piccola tassa sulla moneta che permise di abbassare l'inflazione. Questo è il demurrage. Interesse negativo non è l'esatta definizione perché si tratta più di una commissione per renderne possibile l'uso. Se noleggiate una macchina e non la restituite, voi pagate una tassa. Così come se prendete la moneta e non la restituite, dovete pagare una piccola tassa. Però, se volete avere una banca dove mettere i soldi, allora in questo caso non paghereste la tassa, perché la banca lo rimette in circolo. Io paragono la moneta locale al gettone del supermercato, che ti danno per un euro quando prendi il carrello, e poi te lo restituiscono quando lo rimetti a posto. Voi non potete spendere quel gettone in giro. I soldi della piccola tassa che pagate sulla moneta comunque poi vi sarà restituita in termini di servizi ai cittadini, che la città può offrire con quei soldi. Ma torniamo al discorso. 5.000 certificati di lavoro circolarono per 400 volte nella cittadina di Vorl e crearono scambio di beni e servizi per il valore di ben 2 milioni di scellini. Se prendete come tassa sulla moneta il 12%, il 12% di 5.000 è soltanto 600 scellini, una cifra molto bassa. Loro spesero questo denaro rimettendolo in circolazione, come ha fatto Mr. Perna nel parco della Spromonte, pagando le persone che lavoravano. Ridussero così del 25% la disoccupazione. Hanno incrementato le entrate per la città del 35% e incrementato gli investimenti pubblici del 220%. Gli interessi che oggi in questo sistema paghiamo quando prendiamo un prestito è suddiviso in queste quattro voci. L'1,7% è la commissione per la banca, lo 0,8% è il premio dell'assicurazione contro rischi e il 4% è il premio di liquidità per chi mette da parte il denaro. Poi c'è l'aggiustamento dell'inflazione. Il totale è l'8%. Nel sistema delle monete complementari locali il premio della liquidità non esiste, dunque il costo della moneta è esattamente dimezzato. Oggi l'interesse è il problema principale, ma c'è un altro problema molto grosso. È che in questo sistema il denaro funziona molto bene soltanto per uno scopo, per fare altro denaro, mentre dovrebbero esserci più monete specializzate a finanziare diversi scopi. Se vogliamo salvaguardare una certa area per scopi sociali, ecologici o culturali, abbiamo bisogno di un'altra moneta specificamente studiata per ottimizzarla per gli scopi che vogliamo ottenere. Chiamiamo questo genere di moneta complementare perché essa non vuole sostituirsi alla moneta ufficiale corrente. Voglio mostrarvi tre esempi di moneta complementare. Uno è il Furai Kipu in Giappone, ottimizzato per le persone anziane. Un'altra è il Vir, Virshaftring in Svizzera, che serve per gli affari di piccola e mai identità. Poi c'è la Cyber Educational, una moneta brasiliana per l'educazione scolastica. Queste sono monete che possiamo chiamare settoriali perché nascono per servire scopi specifici. Il Furai Kipu è una sorta di ticket di cura nato nel 1995 e sostiene le persone anziane con l'aiuto di quelle più giovani che ottengono dei crediti orari che possono spendere altrove in qualsiasi altra parte del paese quando vogliono e non sono personali ma cedibili ad altri. Per esempio, potete dare i vostri crediti ai vostri genitori in un'altra parte del paese o usarli per voi stessi. Insomma, è una specie di sistema di credito orario che non crea inflazione perché un'ora è un'ora e rimane sempre quella. Veniamo al sistema del VIR in Svizzera. Per 70 anni, dal 1934, è stato un sistema di scambio di crediti tra piccole e medie imprese in cui i membri sono 60.000 e che hanno consentito nel 2002 uno scambio di circa 1 miliardo e 700 milioni di VIR. Ma la cosa principale è che questo sistema è anticiclico, cioè ha aiutato le stesse banche svizzere a mantenere stabile il ciclo economico. Cosa vuol dire, infatti, anticiclico? Quando l'economia va bene, le banche possono prestare denaro senza problemi. Quando l'economia va male, stanno molto più attenti. Perciò le banche sostengono i cicli alti-bassi dell'economia. Sono procicliche, mentre tutte le monete complementari sono anticicliche, cioè sono molto più stabili. Questo perché se voi potete vendere i vostri prodotti in franchi svizzeri, perché dovreste usare il VIR? Ma se non potete, allora avete delle buone ragioni per usarlo. Se le banche centrali fossero intelligenti, aiuterebbero le monete locali complementari. Le banche centrali, quando l'economia va male, tentano di riuscire ad essere anticicliche, ma non vi riescono bene. Le monete locali, invece, lo sono sempre. Passiamo alla prossima diapositiva. Questo è un esempio veramente importante. Si tratta per ora solo di una proposta, ma mostra bene cosa possono fare le monete complementari. In Brasile il 40% della popolazione è sotto i 15 anni, per cui hanno un enorme problema di educazione. Hanno deciso di aumentare dell'1% le tariffe dei cellulari per avere un miliardo di dollari da destinare all'educazione. Ora, stabilito da questo legame tra questi soldi e lo scopo educativo, come possiamo usare quei soldi? Ok? La proposta è quella di usare il denaro come fondo per la creazione di una moneta per l'educazione scolastica. Si distribuiscono dei voucher ai giovani studenti che possono comprarsi i materiali scolastici e man mano crescendo, questi voucher continuano a sostenerli fino all'università. Quando hanno concluso gli studi, possono redimere questi voucher in dollari americani. Questi voucher perdono il 20% all'anno. Se studiate questo sistema di pagamento dell'insegnamento scolastico, vedrete che i benefici educativi derivanti da questo sistema si possono quantificare in 10 miliardi di dollari invece del miliardo iniziale. La prossima diapositiva è la più importante perché mostra la differenza tra le monete complementari e quelle tradizionali. Le monete complementari sono orientate verso il loro uso funzionale e non verso il profitto come le monete ufficiali. Hanno un'accettazione limitata invece che generale e questo è un vantaggio. Hanno una circolazione incentivata verso uno scopo appropriato invece che finalizzata all'interesse e al profitto fine a se stesso. Sono trasparenti invece di avere una creazione misteriosa. Tutti quanti comprendono che questa moneta per l'educazione è costruttiva, funziona. Ma quanti capiscono come funziona il sistema monetario nazionale? Sono veramente in pochi a capirlo. E siccome sono trasparenti tutti lo capiscono. Possiamo avere un controllo democratico perché altrimenti come fai a controllare qualcosa se non la capisci? L'ultima cosa veramente importante è che le monete complementari offrono per tutti una soluzione vincente. Tutti vincono in questo sistema. Gli studenti vincono, le scuole vincono, le università, tutti i paesi possono avere la loro moneta finalizzata all'educazione. Tutti questi vantaggi sono applicabili sia a tutte le monete settoriali che a quelle locali. Quindi, allora la domanda è perché abbiamo bisogno delle monete locali? Fondamentalmente per usare il denaro affinché crei lavoro, sostenga gli scambi e i servizi all'interno della regione. per creare una specie di salvagenti impermeabili intorno alla regione, nell'oceano dell'economia globale. Puoi anche scambiare la moneta locale con l'euro, ma questo ti costa. Cioè, la moneta locale consente di separare parzialmente la regione dall'economia globale. è come garantirsi la presenza di un battello di salvataggio sul Titanic che sta affondando, se dovesse affondare. Se ci dovesse essere un crollo significativo dell'economia globale, ci sarebbero comunque delle realtà regionali che potrebbero cautelarsi contro queste eventualità. Se uno guarda una piccola zattera da una grande nave può sembrare ridicola, ma se la grande nave sta affondando, allora la zattera è la salvezza. un altro vantaggio è l'incremento e la valorizzazione della produzione regionale, perché i prodotti verrebbero acquistati con la moneta locale che continua a circolare solo nella regione e quindi le risorse locali non vengono disperse all'esterno. Il valore aggiunto e il surplus rimane nella regione. La comunità riesce così ad avere i servizi essenziali di pubblica utilità. quel che ci piace fare o quel che ci piace avere di basilare lo potremo pagare con la moneta locale, cioè prima di tutto i bisogni primari, il cibo, l'acqua e l'energia. Inoltre ci sarebbero dei legami più stretti tra produttore e consumatore. Si rafforzerebbe sia l'identità regionale che le sue diversità e viene ridotta la richiesta di trasporto e di energia. Nel filmato abbiamo visto come viene scambiato il Cingauer. C'è una scuola che vende il Cingauer a differenti associazioni culturali, educative, ecologiche. Loro comprano 100 Cingauer per 97 euro, trattengono il 3% e lo danno ai loro membri in parità. 100 Cingauer per 100 euro. Non c'è nessun tasso di profitto, ma supportano la loro associazione. Con questi soldi possono comprare in diversi negozi e i negozianti possono fare acquisti l'un l'altro. Oppure possono convertire i Cingauer in euro perdendo il 5%. Questo 5% è una sorta di tassa fisiologica per qualsiasi genere di transazione, come se fosse un'altra funzione su un costo già esistente. Il denaro significa fiducia. È una sorta di accordo tra noi che dà valore a un pezzo di carta che decidiamo insieme che vale per esempio 500 euro. Qui se abbiamo bisogno di creare una moneta locale, abbiamo bisogno di creare fiducia in questa moneta locale. Qui ci sono alcune voci che possono concorrere a dare questa fiducia. Le municipalità, il sistema bancario stesso, delle industrie di prodotti e servizi, le grandi compagnie infrastrutturali che gestiscono l'elettricità o l'acqua, delle agenzie di servizi sociali come le banche del tempo o delle associazioni. Quindi svariati gruppi possono emettere la propria moneta complementare se sono in grado di creare questa fiducia. Nel settembre 2003 abbiamo in Germania la nascita di 24 iniziative di monete regionali che si sono strutturate in rete. Nel febbraio del 2006 dopo due anni e mezzo le iniziative sono 50 di cui 14 emettono già la propria moneta locale e hanno creato un'associazione. Se volete avere altre informazioni potete andare a consultare il sito web regiogeld.de o il mio sito personale che è in tedesco e in inglese ma presto potrete trovare qualcosa anche in italiano. Voglio infine specificare che ogni modello di moneta locale è diverso e questo è fatto apposta per adattare esattamente la moneta ai nostri scopi e trovare quella che funziona meglio. Ok, grazie.